Tornando all'argomento, voto ai sedicenni, togliamolo invece ai pensionati. Ecco, quella mi sembra proprio invece una, per usare il termine di Toscani, se mi è consentito, ovviamente non voglio offendere nessuno, una coglionata. Perché come diavolo si fa a dire che un signore di 60 anni, di 65 anni, non debba poter decidere del futuro di questo paese, è una follia. A parte che i 60 anni sono la maggioranza e quindi tu stai escludendo la maggioranza. Ma sapete cosa sta accadendo? Che un'elite di persone, siccome a questa elite di persone non piace come votano gli italiani, vorrebbero togliere il voto agli italiani. È un po' come nel passato, quando c'era ancora il Regno d'Italia, a votare erano solo i maggiorenti, cioè solo quelli che si ritenevano intelligenti, ricchi, brillanti, nobili e così via. Le masse popolari invece non erano considerate capaci di scegliere e di votare. Si vuole ritornare lì, cioè le masse popolari, il pensionato non deve votare. Perché? Ma perché è un pensionato, no? E siccome è preoccupato per il futuro, è meglio che non decida del futuro. Facciamolo decidere ai ragazzini, con il risultato che ci troveremo ancora peggio di come stiamo, cioè in bancarotta.